Oltre l'80% dei comuni italiani occupa un'area ad alto rischio idrogeologico. Il nostro paese è in Europa, quello maggiormente interessato da fenomeni franosi. È uno dei dati più allarmanti emerso dallo studio dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni presentato a Roma. Secondo il ministro dell'Ambiente Galletti, il disesto idrogeologico è una priorità assoluta e il governo è pronto a spendere 2,3 miliardi di euro, poco meno della metà, e già impegnato in cantieri. Altri 5 miliardi arriveranno dal Fondo di Coesione Territoriale Europeo. Le risorse verranno stanziate sulla base delle priorità indicate delle regioni che firmeranno accordi di programma con il ministero. La Puglia e la Toscana, sottolineato il responsabile della struttura di missione di Palazzo Chigi e Erasmo De Angelis, hanno i piani migliori e le altre regioni dovrebbero adottare gli stessi vincoli per la messa in sicurezza del territorio, vincoli che in queste due regioni hanno reso inedificabili tutte le zone a rischio. La lista delle opere, che proviene da indicazioni di regioni, autorità di bacino e protezione civile, comprende circa 7 mila punti per un valore di 19 miliardi di euro. Nel piano 2015, predisposto dall'AMI invece, servirebbero circa 3.300 interventi in tutta Italia. Si tratta soprattutto di manutenzioni straordinarie delle opere di bonifica, di sistemazione e regolazione idrauliche, di ripristino di fenomeni di dissesto idrogeologico.